Salve a tutti ragazzi, bentornati per un nuovo video Allora intanto buona domenica a tutti Sta giocando il Giappone, infatti finito il video vado a vedere la partita Quasi finito il primo tempo credo, sì E comunque volevo parlare delle partite di ieri Allora intanto Tunisia-Australia, una bella partita L'Australia che segna con Duke E poi la Tunisia che ci prova La Tunisia che era partita anche bene contro la Danimarca Poi finita 0-0 Purtroppo la Tunisia perde con l'Australia e praticamente è fuori Con molta probabilità passeranno la Francia e l'Australia Perché la Danimarca ha appunto pareggiato con la Tunisia E' un punto, la Tunisia è eliminata perché ha pareggiato con la Danimarca a 1 L'Australia è a 3 e la Francia a 6 Quindi difficilmente saranno diverse da Francia e Australia agli ottavi Francia sicura degli ottavi Scusate stavo dicendo dell'ottavo posto Poi arriviamo alla Polonia che batte 2-0 La sorpresa, la più grande sorpresa della giornata precedente Ovvero l'Arabia Saudita Vince 2-0 la Polonia, segna Zielinski E poi sbaglia un rigore Aldo Sari Scesni fa un miracolo lì e anche sulla ribattuta Doppio miracolo in 3 secondi E finalmente Robert Lewandowski riesce a segnare il gol ad un mondiale E esplode di gioia in un pianto liberatorio Bellissima Veramente bella Un errore della difesa saudita Che perde il pallone e arriva a Lewandowski come un avvoltoio Prende la palla e col sinistro la piazza Dove è ovviamente Cioè dove è solo buttarla dentro Ed è un gol semplice per un giocatore Che ci ha abituato a segnare in ogni modo Però un gol semplice che vale tanto per lui Il primo gol in un mondiale Poi arriviamo alla Francia Che archivia come avevo pensato io 2-1 contro la Danimarca Pensavo appunto vincesse di misura Segna Mbappé Pareggia Christensen Poi però ancora Mbappé Il fenomeno, il bomber Il numero 10 Dei campioni in carica Che segna ancora E porta la Francia agli ottavi Per ultima Ma non meno importante L'Argentina Che deve assolutamente vincere col Messico Se no la sua avventura in Qatar 2022 è già finita Dopo la sconfitta clamorosa con l'Arabia Saudita E chi Se non Messi La sblocca con bellissimo sinistro E lì la partita cambia perché è stata una partita brutta Nell'Argentina fino a quel momento Arriva il gol di Messi E cambia completamente lo switch mentale E poi la chiude Enzo Fernandez Rammarico del Milan Del calcio mercato Perché era vicino al Milan Enzo Fernandez Poi è andato al Benfica L'ex River Fa un bellissimo gol a giro Che porta l'Argentina Allo scontro diretto con la Polonia Incredibilmente la Polonia Con 4 punti È prima nel girone L'Argentina a 3 Il Messico a 1 E l'Arabia Saudita anche lei A 3 Ricordiamolo appunto Quindi la Polonia Al momento È prima Con l'Argentina Che rischia Perché se l'Arabia Saudita Metti caso che pareggia col Messico E l'Argentina perde con la Polonia L'Argentina viene eliminata Quindi l'Argentina dovrà dare il tutto per tutto Per vincere Assolutamente O almeno Pareggiarla Sperando che l'Arabia Saudita Non batta Il Messico Che anche lì Esca magari un pareggio Staremo a vedere Ora gioca il Giappone Poi c'è il Marocco Con il Belgio La Croazia con il Canada E stasera il Big Match Che tutti guarderemo Spagna-Germania Fatemi sapere la vostra Delle partite di ieri Fatemi sapere la vostra Per le partite di oggi Cosa pensate potrà succedere Un bel mi piace Iscrivetevi al canale Seguitemi su tutti i social Attivate la campanellina Così vi arrivano tutte le notifiche E noi ci vediamo al prossimo video A più tardi Magari con il post partita Per Giappone Costa Rica Ciao a tutti ragazzi Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori